comunità per la via della conoscenza voce nell'impermanenza un altro punto di vista sul processo di reincarnazione andrea per l'uomo non è possibile percepire che cos'è un'altra dimensione lui cercherà sempre di proiettare le proprie idee sopra quella che lui pensa essere un'altra dimensione e poi cercherà piglio su ciò che egli ha maturato a partire dalla situazione che vive quindi noi useremo frasi che per voi hanno ben poco senso se riferite ad una situazione dove non c'è più un corpo un'emozione e neppure una mente che elabora cioè useremo approssimazioni e perciò falseremo ciò che può esistere in un'altra dimensione così come esiste questa vostra dimensione ne possono esistere molte altre che fanno sempre parte del tutto che non esauriscono il tutto che sono dentro il tutto e che si possono considerare come niente se considerate dal punto di vista dell'essenza del tutto ma che in quanto facenti parte del relativo hanno sicuramente una loro fisionomia così come la vostra realtà una fisionomia in quanto c'è qualcuno che percepisce secondo certe modalità anche altre realtà che fanno parte del tutto hanno altre fisionomie perché vengono vissute in un altro modo però dal punto di vista del tutto o del nulla tutto questo non esiste ma esiste soltanto l'immobilità continua vocedella quiete punto vagliano chiocciola gmail punto com